Un benvenuto a tutti sul canale. Come al solito vi ricordo che questo è uno spoiler, quindi vi anticipo quello che succederà nei prossimi eventi. Se non volete scoprire nulla, non vi rimane che uscire da questo video, ma se siete curiose, continuate a guardare, perché scoprireste comunque cose molto importanti per la telenovela. Oggi mi rivolgo a tutti coloro che amano gli spoiler della serie, ma in particolare quelli di Terramara. Terramara è una serie turca che ci sta facendo battere il cuore con le sue intensissime puntate. Sappiamo che siete in tantissime e tantissime a seguire le serie e sappiamo che siete anche molto curiosi di ciò che accadrà nelle prossime puntate, anche perché la trama si fa sempre più avvincente e piena di colpi di scena. Oggi vi racconterò di Zuleyla e Akan. Chi è Akan? È l'uomo che ha assassinato Demir, il marito di Zuleyla. In un altro video vi abbiamo spoilerato la sua morte. Mi lascio il link nella descrizione, se ancora non lo avete visto, di cui quest'ultima si innamora. Iniziamo quindi spiegando per sommi capi la storia di Akan Gumuzoglu, un uomo che si reca a Kukurova con una missione ben precisa, vendicare la morte del fratello Erkan. Difatti Akan è deciso a sconfiggere Demir Yaman e Alirabet Fekeli, colui che ha causato la tragica perdita del suo caro. Tuttavia tutto cambia quando incontra Zuleyla Yaman, la moglie di Demir. Questo incontro cambierà per sempre la sua prospettiva sulla situazione, ma la sua missione di vendetta non è ancora finita. Akan si presenta con Mehmet Karah, un uomo d'affari che vuole investire nella società di Demir, ma mano a mano che trascorre del tempo con Zuleyla la sua prospettiva cambia. Il suo cuore si apre all'amore per la giovane donna e scopre che lei non ha alcuna colpa nella morte del suo fratello. Tuttavia Akan, o meglio Mehmet per Zuleyla, non può ignorare la sua missione di vendetta e deve trovare un modo per conciliare i suoi sentimenti con la sete di giustizia. Zuleyla sappiamo che è una donna che ha superato molte prove nella sua vita, ha affrontato la scomparsa di Demir e la triste storia del suo passato con lui. Ma quando inizia a scoprire verità oscure del passato di Demir e della sorella di Akan, di cui è venuta a conoscenza grazie a quest'uomo, la sua vita viene sconvolta ancora una volta e queste scoperte la portano ad un nuovo punto di non ritorno, ovvero al punto da farle considerare il suicidio. Tuttavia la sfortuna la colpisce ancora una volta. A causa di questo tragico evento si ritrova paralizzata. Nonostante ciò Zuleyla non perde mai la sua forza e il suo coraggio, trovando conforto tra le braccia di Akan. Infatti, in mezzo a tutto questo dolore e sofferenza, Akan è stata una roccia per lei. Con il suo conforto Zuleyla si è aperta e gli ha raccontato molto del suo difficile passato. Akan è stato lì ad ascoltarle, a supportarla in ogni modo possibile, diventando un grande sostegno per lei in questo momento difficile. Con il passare del tempo i sentimenti di Akan per Zuleyla diventano sempre più intensi e alla fine, durante un romantico ballo, le rivela i suoi veri sentimenti. La verità, per concludere, è che Akan si è avvicinato a Zuleyla per vendicare la morte di suo fratello, ma ha finito per innamorarsi di lei. Questa serie ci mostra la forza della volontà umana e come anche le situazioni più difficili possono essere superate con la determinazione. E questa è solo una parte della storia emozionante e coinvolgente di Terra Amara. Non perdete quindi l'occasione di guardare questa serie e scoprirete cosa succederà ai personaggi e alla loro complicate relazioni che continuano a cambiare ogni giorno. Ma cosa ne pensi tu di questa situazione? Condividi con noi le tue emozioni nei commenti. Per oggi è tutto, ricordate di lasciare un like e di attivare la panellina per rimanere sempre aggiornati ed informati sulle serie turche che preferite. Ci vediamo al prossimo video!